il muro di fuoco e adesso come facciamo a tirare fuori Flare e Valle? non le avrebbe prese senza una ragione vuole qualche cosa in cambio allora tiriamo la sua attenzione ehi Rixel! porta fuori il tuo grasso di dietro! e poi io mesmerizzerò il piccolo unicorno arcobaleno con il mio fluido verde così sarà totalmente in mio potere solo dopo faremo il nostro cambio questa è una stupidissima idea se scoprono che Flare è stata toccata non faranno mai lo scambio che cos'è questa? è la prima volta che tu tratti i cavalli? cioè unicorni? hai ragione vorranno essere sicuri che non sia sotto la mia influenza giusto? molto astuta scusate mi dispiace interrompere la vostra riunione ma ci sarebbero degli elfi arrabbiati alla porta vediamo cosa vogliono niente giochetti miei cari se davvero volete rivedere i vostri amici vivi che cosa vuoi Rixel? io non voglio nient'altro che restituirti i tuoi amici mia cara in cambio dall'unicorno alato ovvio se lo può scordare vi assicuro che li ho mantenuti in eccellenti condizioni possiamo fare lo scambio subito niente trucchi amica mia bene ma non lo faremo qui sulla tua isola lo faremo laggiù sulla terra fea cosa dico? no d'accordo io preferirei di no se non vuoi stare alle nostre condizioni il patto è nullo molto bene accetto le vostre condizioni allora il prato con il grande albero rosso ci sei già stato ti aspetto lì insieme a un cielo fantastica che cosa hai fatto? non lascerei davvero che Rixel prenda un ciao? certo che no ho un piano è rischioso ma credo che riusciremo a salvare i nostri amici senza dover consegnare un ciao so che faresti qualunque cosa per Flair e noi ti aiuteremo certo che sì dunque qual era il piano esattamente? sappi che ti vogliono imbrogliare? tu aspetta qua io avrò presto la mia ricompensa molto presto libererò un prigioniero alla volta comincia col mandare avanti l'unicorno alato andiamo sei molto coraggioso sta soppicando forza Mo dobbiamo liberare Varia mio tutto mio hai detto che ci avresti aiutato se ne avessimo avuto bisogno ne abbiamo bisogno ora cosa? cos'è quello? ehi! sta buona tu! tiratemi fuori di qui! ehi! sporchi elfi mai fidarsi di loro sporchi noi non abbiamo paura di un po' d'acqua voi mi avete salvato ma certo Varia andiamo grazie per l'aiuto ero certa che ci avresti tirato fuori dai guai tutto ok? ti hanno fatto del male è stato terribile sono davvero felice di essere fuori da quell'altro ragazzi la trappola non lo fermerà a lungo dobbiamo andarcene ah già ci penso io finché ci saranno in giro trappole di Rixel qualcuno potrà sempre farsi male chissà quante ce ne sono rimaste io lo so ho rubato questa mappa da quel posto quando non mi guardavano wow sei forte Varia dovresti portarla a Simo mentre io e Yuko porteremo Flare e Onciao al Pascolo degli Unicorni Varia mi dispiace di averti lasciato indietro finora puoi unirti alla nostra prossima missione andremo alla ricerca del padre di Onciao Ono sembra una gran bella avventura io ci sto buone notizie ragazzi sappiamo dove sono le trappole le troveremo tutte in poco tempo oh beh è fantastico ma non è troppo tardi per oggi? hai ragione in effetti è proprio ora che vada è ora che mi muova anche io wow che giornata ragazzi ciao Varia ciao anche a voi ciao Mia ciao Mia ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti